L'Abruzzo L'Abruzzo è una regione a statuto ordinario dell'Italia meridionale con capologo l'acquino. L'Abruzzo è una delle poche regioni d'Italia che unisce nella sua geografia la vicinanza al mare e al clima montoso del penino. L'Abruzzo è una superficie di 10.831 km2 e ha un'invaluazione più di 1.200.000 abitanti. L'Abruzzo è una superficie di 10.831 km2 e ha un'invaluazione più di 1.200.000 abitanti. La perla archeologica della regione, l'antica città romana D'Aglia Lucchese, è stata cancela la tabella. L'Abruzzo è una superficie di Roma e ha segnato lo sviluppo della regione. L'Abruzzo è una superficie di Roma e ha segnato lo sviluppo della regione. L'Abruzzo è una superficie di Roma e ha segnato lo sviluppo della regione. L'Abruzzo è una superficie di Roma e ha segnato lo sviluppo della regione. e la regione ha segnato lo sviluppo della regione. L'Abruzzo è una superficie di Roma. L'Abruzzo è una superficie di Roma e ha segnato la regione. Grazie.